Ben trovati con il TGLIS di Telebari. 10 moduli di 50 metri quadri ciascuno, 8 dei quali destinati ad abitazione e 2 alla amministrazione e alla riabilitazione psicologica. Ogni casetta per un massimo di 4 persone è dotata di camera da letto, zona adibita soggiorno, pranzo e cucina e bagno con doccia. Il nuovo villaggio 30 ore per la vita a Gebeo, destinato all'accoglienza dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie, e realizzato a Bari su un terreno di proprietà comunale confiscato alla mafia e concesso nel 2016 dall'amministrazione alla associazione a Gebeo e amici di Vincenzo Onlus per il suo progetto di accoglienza. La struttura è stata inaugurata alla presenza, fra gli altri, del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e di Lorella Cuccarini, madrina di 30 ore per la vita. Un cervello digitale in grado di elaborare e gestire milioni di dati in tempo reale, migliorando l'attività di monitoraggio dei 33.000 chilometri di rete idrica e fognaria dell'acquedotto pugliese e di gestire le manutenzioni in modo più mirato. La control room di acquedotto pugliese è stata inaugurata a Bari alla presenza del governatore Michele Emiliano e dei vertici di acquedotto. La nuova cabina di regia è in grado di tracciare l'intero ciclo delle segnalazioni dei clienti, migliorando le tempistiche di intervento. Può inoltre supportare, attraverso i dati, il percorso di risanamento delle reti e di riduzione delle perdite e nel prossimo futuro potrà integrare i dati di acquedotto con quelli di altri soggetti pubblici e fornitori di servizi per gestire organicamente le emergenze. E con il TIGILIS è tutto, adesso le altre notizie. Un libro che ha l'ambizione di fare molto rumore a livello mediatico. Matteo Renzi irrompe nel dibattito politico con Palla al centro, la politica al tempo delle influencer presentato sabato pomeriggio a Bari. Un racconto ricco di aneddoti sulle vicende politiche dell'ultimo anno con qualche rivelazione scottante che il leader di Italia Viva ha anticipato dal palco durante i suoi 45 minuti di intervento. In prima fila anche l'avvocato Michele Laforgia, uno dei due candidati sindaci del centro-sinistra. Una campagna elettorale che potrebbe cambiare traiettoria se dovesse arrivare il via libera al terzo mandato. Renzi ha rilanciato le sue battaglie pronto a giocare in prima linea la partita delle europee. Una marcia della non violenza e della legalità si snoderà per le vie di Molfetta mercoledì 21 febbraio. Il comune si ritroverà per un momento di riflessione e unione dopo gli episodi che si sono verificati negli ultimi mesi. Prima l'esplosione di un'auto a Capodanno per mano di Balordi, poi il tragico omicidio di Dario De Gennaro. E' stata così istituita una iniziativa per ritrovare un senso comunitario che ad ora appare smarrito. Il corteo partirà alle 19 dalla parrocchia di San Domenico. Proseguono le ricerche del 29enne originario del Marocco El Kadir evaso nel primo pomeriggio di sabato dal carcere di Trani insieme con un 24enne che i carabinieri hanno invece rintracciato e bloccato a Barletta. I due sono riusciti a scavalcare il muro di cinta della struttura fuggendo nelle campagne. Le attività di ricerca si stanno concentrando fra le province di Barletta, Andria, Trani. Sono stati stanziati 200.000 euro per la sostituzione di 5 pontili tra le spiagge di Torrequetta e di Pane e Pomodoro. La speranza è che siano pronti per la prossima stagione estiva per non ripetere l'errore dello scorso anno quando gli interventi furono programmati a stagione quasi finita. I nuovi accessi al mare saranno a misura di disabili con una attenzione maggiore anche all'estetica. Il progetto definitivo del secondo accordo quadro è stato approvato dalla Giunta Comunale. Ogni pontile inoltre sarà corredato della rispettiva passerella di collegamento della battigia della stessa larghezza del pontile. Scende ancora il quantitativo di acqua negli invasi con meno 140 milioni di metri cubi di acqua per cui sale l'allarme siccità in Puglia con l'assenza di piogge che mettono a rischio le semine di cereali e legumi pascoli compromessi e ortaggi che non riescono ad entrare in produzione. E quanto denuncia Coldiretti Puglia sulla base dei dati dell'osservatorio di Ambi. intanto sale l'allerta nelle campagne dove le coltivazioni ingannate dall'inverno caldo sono ancora più sensibili al maltempo e al previsto abbassamento delle temperature con i mandorli fioriti in Puglia a febbraio gli oliveti in perenne vegetazione. Il pala Marchiselli di Barletta è inagibile e resta chiuso. Tutto questo a causa dei problemi gravi riscontrati ai pilastri della struttura che vedono compromessa la loro funzionalità a causa dell'eccessiva umidità che si è stratificata nel tempo e il massiccio attacco di termiti alla struttura in legno. La perizia tecnica ha solo certificato quanto le società sportive denunciano da tempo. Ammonta a quasi 4 milioni di euro l'evasione fiscale di una concessionaria d'auto con sede del Brindisino che dal 2016 al 2022 avrebbe venduto 1642 veicoli completamente in nero e quanto hanno scoperto i finanzieri del gruppo a seguito di una verifica particolarmente complessa poiché il titolare dell'attività non avrebbe mai tenuto nemmeno i registri contabili. L'uomo è stato denunciato per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. Una discarica di rifiuti nei pressi di Monte Aquilone alla periferia di Manfredonia nel Foggiano è stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali a darne notizia le guardie ambientali che hanno effettuato un sopralluogo nella zona in questione. è partito a Taranto il nuovo servizio di vigilanza per garantire sicurezza all'utenza e al personale del trasporto urbano. Il sabato la domenica e i giorni festivi e prefestivi dalle 18 alle 24 i bus che partono dal capolinea porto mercantile per State Paolo VI San Vito e Tramontone Lama saranno scortati da una pattuglia di un istituto di vigilanza. Nelle stesse giornate inoltre nelle ultime partenze serali a bordo dell'autobus sarà presente una guardia giurata. E con il TgList è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento. Grazie a tutti.